Amicizia. La parola è giunta a significare molte cose diverse a seconda delle varie razze e culture, sia nel buio profondo che nella superficie dei reami. A mezzo Barrazan, l'amicizia nasce generalmente dal profitto reciproco. Finché entrambe le parti ricevono un vantaggio all'unione, questa rimane solida. Ma la realtà non è un principio della vita tro, e non appena un amico crede di poter ottenere di più senza l'altro, l'unione, e probabilmente la vita dell'altro, giunge rapidamente al termine. Ho avuto pochi amici nella mia vita, e sospetto che questa resterebbe una realtà anche se dovessi vivere mille anni. Tuttavia questo fatto è ben poco lamentabile, perché coloro che mi hanno chiamato amico sono state persone di grande carattere e hanno arricchito la mia esistenza, conferendole valore. Il primo è stato Zacnafein, mio padre e mentore, che mi ha mostrato che non ero solo e che non sbagliavo a restare legato ai miei principi. Zacnafein mi ha salvato, sia dalla lama che dalla caotica, malvagia, fanatica, religione che danno al mio popolo. Comunque la mia posizione era altrettanto disperata quando un ognomo delle profondità senza mani è entrato nella mia vita. Uno Snirfneblin che avevo salvato da morte certa, molti anni prima, sottraendolo alla lama spietata di mio fratello Dinin. Tale azione fu ripagata a pieno, perché quando lo Snirfneblin e io ci incontrammo di nuovo, questa volta in balia del suo popolo, se non fosse stato per Belwar disse in gulp, io sarei stato ucciso e in verità avrei preferito la morte. Il periodo che trascorsi a Bligdenstone, la città degli gnomini delle profondità, fu uno spazio incredibilmente breve nella misura dei miei anni. Ricordo bene la città di Belwar e il suo popolo, e le ricorderò sempre. La loro fu la prima società che conobbi, basata sulle forze della comunità, non sulla paranoia dell'egoistico individualismo. Insieme gli gnomini delle profondità sopravvivono contro i pericoli dello stile buio profondo, faticano nei loro infiniti lavori di estrazione mineraria e giocano in modo difficilmente distinguibile da ogni altro aspetto delle loro ricche esistenze. Una gioia condivisa è davvero più grande. Drist the Hurden. Bentornati alle pergamene del vecchio stregone, il brano in apertura era tratto dall'esilio di R.A. Salvatore, di cui parleremo. Qui è la penna. E qui è Harlock. E allora, vuoi dirci qualcosa dell'autore? L'autore è scrittore statunitense del 59, che è diventato famoso con i suoi romanzi fantasy e anche di fantascienza, prevalentemente per quelli ambientati nel mondo dei Forgotten Realms. Anche se ha scritto, appunto, per la fantascienza anche opere ispirate alla saga di Guerre Stellari. Peraltro i Forgotten Realms li ha sostanzialmente quasi inventati lui. Comunque ci ha messo tanta di quella polpa che tutto l'immaginario che vi ruota intorno sostanzialmente è suo. Sì, lui ha effettivamente scritto quasi tutti i suoi romanzi inventati nel Forgotten Realms, sviluppando molto dell'ambientazione che era stata scritta per il gioco di Dungeons & Dragons, creando per l'appunto i personaggi iconici che poi i giocatori hanno spesso incontrato nelle loro campagne come Dritz do Hurdan e la sua Pantera When We War. Esatto, è il personaggio a cui ci dedicheremo oggi. Vanno menzionati anche alcuni videogame che sono sempre tratti dal suo lavoro. Uno di questi è Kingdoms of Amalur. Veniamo in particolare all'ora al mondo di sotto dei Forgotten Realms, di cui lui ci racconta delle vicende che ruotano attorno a Dritz e che veniamo bene nel questo libro che è l'esilio. Il protagonista? Il protagonista è appunto Dritz, Dritz Do Hurdan, del casato di Do Hurdan, che nel primo libro raggiunge, passa da piccolo casato a una delle case dominanti. Di Idro, per chi non conoscesse il personaggio. Parliamo di Idro, che sono elfi che si sono fatti corrompere da Lolt, dalla regina Ragno, una divinità malvagia del mondo dei Forgotten Realms. Si sono rintanati, hanno abbandonato alla superficie del mondo e si sono rintanati in questa enorme caverna sotterranea, anzi queste enormi caverne sotterranee collegate da cunicoli lunghi chilometri e chilometri e hanno formato delle città sotterranee, molto spesso separate tra di loro e neanche in contatto se non in sporadiche occasioni, quindi tipo città-stato fondamentalmente, in cui ci sono queste casate nobiliari che governano la città di Menzo Berrazan, nel caso di Idris, che è una caverna che si stende per chilometri con tantissime persone che la abitano, prevalentemente Edro, ma anche soprattutto schiavi, goblin, eccetera, che Idro catturano quando fanno razzie in superficie o comunque all'interno dell'Underdark e che schiavizzano appunto sia come serventi per le case sia come soldati. Una cosa importante di Idro è che è una società matriarcale per cui gli uomini sono considerati poco più che merce o comunque carne da macello durante le battaglie, motivo per cui Idris è un personaggio iconico in quanto è, oltre a essere un Dro che si ribella a questa società corrotta, è anche un maschio che parte considerato poco più di uno scarto per dimostrare invece di essere all'altezza anche delle sacerdotesse più potenti. Questo fondamentalmente è in realtà tutto il prologo della storia che in realtà leggiamo nel primo libro perché il secondo libro va proprio a esplorare il resto dell'Underdark in cui Idris, abbandonando mezzo Berrazan, comincia a vivere come un cacciatore solitario e a esplorare, a trovare tutte le varie culture, società sia animalesche sia più sviluppate che popolano questo mondo alternativo perché è talmente vasto che può essere una sorta di mondo alternativo al mondo della superficie. Sì, di fatto è un intero continente sotto quello della superficie. E come mai Idris abbandona la sua gente. Idris sin da piccolo percepisce che c'è qualcosa che non va nella civiltà D'Edrò e anche crescendo nell'accademia quando gli vengono insegnati tutti i vari credi della sua civiltà non capisce come sia possibile che quella sia l'unica strada che gli viene presentata, l'unica strada possibile, e cresce appunto con il dubbio che ci sia qualcosa di sbagliato. Zack Nafenke, il padre di Idris, la vensa allo stesso modo e cerca di guidare il figlio a non farsi corrompere dal popolo della loro stirpe. Però la madre di Idris, per cercare di convincerlo a tornare, tra virgolette, in riga e anche per compiacere la volontà della loro Dea Oscura, fa sì, adesso non vorrei spoilerare una parte dell'altro libro, però diciamo che fa sì che Idris reagisca male alle sue azioni e decida di abbandonare la città perché ha la conferma che quello che ha sempre sospettato è vero, che la società Deidro è una società malata all'interno in cui non puoi fidarti di nessuno, nemmeno della tua famiglia, quindi abbandona menzo e merda. Sì, le rivalità tra casate sono all'ordine del giorno. Ma a parte le rivalità tra casate, il problema è che c'è la rivalità anche all'interno, tra fratelli, tra genitori, tra figli e genitori, quindi è proprio un vivere costantemente non solo sul chi va là, ma anche sul cercare di fregare il prossimo senza farti fregare a tua volta e senza far capire che stai fregando gli altri. Quindi lui abbandona la città e decide di vivere da solo perché inizialmente lui non ha nessun punto di riferimento diverso, per lui sa solo che le cose non possono andare così dovunque e per evitare appunto di dover tradire o altre cose decide di vivere da solo nell'Underdark insieme a Gwen Weaver che è una pantera, è la sua unica amica, una pantera astrale, una pantera del piano astrale che può materializzare una volta ogni tanto grazie a un oggetto magico e con cui lui vive per i primi, per dieci anni da solo nell'Underdark diventando un cacciatore espertissimo, fortissimo perché comunque il libro inizia con The Ritz che è a caccia di un basilisco che è comunque un mostro considerato potentissimo per chi gioca sa che ai primi livelli è considerato un mostro letale. Tanto è vero che poi andando avanti nella storia Dritz imparerà che da solo non riesce a... cioè sta fondamentalmente impazzendo vivendo da solo e percepisce la necessità di avere qualcuno con cui parlare. Si avvicina casualmente a una città, una capitale degli ignomi sotterranei dei Smirfneblin. Smirfneblin che è Bligdestone se non erro. Sì, Bligdestone. Diciamo che è il primo tentativo di avvicinarsi e lui a un certo punto viene preso dalla paura appunto comunque di un popolo che non conosce e si riallontana fino a che alla fine decide che anche se lo avessero ucciso doveva correre questo rischio perché non ce la faceva più a non avere nessuno con cui parlare. Parlare alla sua pantera aveva senso relativamente perché comunque la pantera non gli rispondeva e alla fine aveva iniziato a parlarci solamente con gesti e grugniti come se fosse lui stesso una pantera. Lui entra in questa città dove viene tra virgolette arrestato, nel senso viene condotto davanti al consiglio del re perché lui si è presentato disarmato, cioè si è disarmato da solo davanti alle guardie, è stato arrestato in malo modo. C'è da premettere che tra i dro e gli ignomi non corre buon sangue come tra i dro e pressoché chiunque altro. Sì, tra i dro e anche tra i dro e i dro. Comunque sta di fatto che lui siccome aveva durante una guardia fatta nel primo libro aveva affrontato alcuni ignomi e ne aveva risparmiato uno, quello stesso ignomo ricompare e grazie al suo intervento viene risparmiato dagli ignomi della città e affidato appunto a questo ignomo che con i giorni cominciano a studiarsi e Dritz comincia a vedere che la società non deve essere per forza una società è basata sulla corruzione e sul cercare di ottenere più potere degli altri in quanto dalla casa dell'ognomo lui vede i ragazzini giocare tranquillamente nelle piazze fin tanto che spinto anche appunto da quello che ormai era diventato un amico cerca di entrare in contatto con questi ragazzi che anche se sono molto più giovani di lui perché lui comunque invecchia molto lentamente quindi anche se ha 40 anni sembra poco più di un ragazzino gli mostra le sue capacità diventando con il tempo un idolo per tutti quanti perché comunque lui è estremamente atletico rispetto agli ignomi che sono forti sono molto resistenti ma sono anche una razza tozza e diciamo che l'agilità non è nel loro sangue da qui comincia a vivere la sua vita in questa città dove comincia a recuperare un po' di umanità di elficità nel senso comunque riesce a tenere sotto controllo sempre un po' meglio l'istinto del cacciatore che è dentro di lui e a recuperare un po' se stesso lui cerca il contatto umano proprio il contatto con altri esseri senzienti proprio perché si rende conto che la solitudine lo stava facendo smarrire stava diventando comunque una cosa che lui non voleva essere anche perché poi da solo in un posto che è ben poco ospitale e che nonostante lui fosse nativo di Menzo Barrazan però non aveva mai esplorato in lungo e in largo no lui aveva solamente visitato alcuni cunicoli quando veniva utilizzato come guardia di pattuglia come pattuglia diamo qualche idea per chi non conosce l'ambiente e l'ambientazione di che posto sinistro è l'underdark l'underdark è un posto in cui non c'è assolutamente luce tutti gli esseri che vivono sono in grado di vedere le variazioni di calore per cui non sfruttano la visione normale e sono rarissimi i posti che hanno luminescenza in genere comunque data da fosforescenza di funghi o altri oggetti più o meno radioattivi ed è popolata da creature che fondamentalmente sopravvivono mangiandosi a vicenda poche sono le creature dell'underdark che si nutrono appunto di funghi anzi ci sono funghi che si nutrono di chi passa attraverso loro e quindi è un posto in cui anche vivere una società tra virgolette amichevole come quella degli ignomi sotterranei è comunque una vita dura e complicata l'aspettativa di vita è breve seppur si appartenga a razze in grado di vivere anche 700 anni e poi ci sono creature molto più grosse molto più pericolose anche dello stesso basilisco che affronta Driss l'unica forma di vegetazione che poi in realtà non è una vegetazione sono funghi che vanno da dimensioni di funghi che noi vedremmo in un bosco a funghi che hanno dimensioni invece di veri e propri alberi tant'è che alcuni di questi poi forniscono l'unico legname che c'è che è lo zarkwood che si ricauda dal fusto tanto è ispessito e fibroso qualche altro abitatore dell'Undertar in cui poi si imbatte il nostro Driss il nostro Driss si imbatte dopo aver abbandonato anche Blingeson insieme al nuovo amico Nano eh Nano scusate, Miomo assolutamente non Nano dopo aver abbandonato anche Blingeson per necessità di sopravvenute durante la storia si imbattono in altri abitatori tra cui una razza inizialmente si imbattono in quello che sembra essere un orrore uncinato che è un mostro fondamentalmente che è una razza di mostri che vivono nell'Underdark in genere poco razionali anzi per niente razionali proprio bestie che hanno l'unico scopo di nutrirsi però si accorgono che questo orrore uncinato si comporta in maniera strana e riescono a capire che in realtà è un Peck un Peck è una specie di folletto è un poco più grande di un ognomo da quello che ho capito dalla descrizione ma molto più esile che è una creatura di terra una sorta di... non è un elementare di terra ma è proprio una creatura che ha una stretta connessione con la terra tanto che riesce anche a parlarci a capire quello che le rocce possono raccontare mentre ad esempio gli gnomi riescono a percepire le vibrazioni attraverso le rocce quindi capiscono anche se c'è una vena minerale all'interno di quella zona il Peck riesce proprio a comunicare parla con la roccia e la roccia gli dà informazioni a chi è passato, a chi sta passando dove sta la gente ma proprio a livello di... non sento che ci sono dei passi quindi a 50 metri sta arrivando qualcuno è proprio... ah sì, sta arrivando una banda di gnomi composta da tre tizi perché è proprio la roccia che gli dice queste cose che è stato trasformato in questo orrore da un mago che poi incontrano all'interno di una torre che è una torre magica che ha eretto perché si è rifugiato dalla superficie esterna nell'Underdark oltre a questo personaggio altre creature iconiche di questa ambientazione che incontreremo in questo libro sono i famosi Illited chiamati anche Mind Flayer i nostri amici piovre psioniche del mondo dei Forgotten Realms lui incontra un intero nido di Mind Flayer che sono effettivamente l'unica vera sfida che lui incontra in questo libro perché Dritz dimostra ad ogni scontro di essere un gradino al di sopra di tutti gli altri personaggi che incontra non ha difficoltà ad affrontare sia nemici numerosi che nemici grandi tranne in un caso che fuggono da un mostro ma perché è una sorta di autotreno dalla descrizione che fanno e che comunque non era pericoloso stava solamente difendendo il suo territorio per cui l'ognomo gli dice è inutile che perdiamo tempo ad affrontarlo scappiamo, facciamo prima i Mind Flayer li sconfiggono fondamentalmente loro vengono presi un po' alla sprovvista perché comunque vengono sorpresi dai Mind Flayer che li affrontano e vengono appunto catturati diciamo qualcosa di questi Mind Flayer che se ne è sentito un gran parlare su una serie di V che è Tranger Things andiamo alla radice e cuiviamoci di quelli autentici Sì, tralasciando quella che è una citazione Sì, è solo una citazione insomma per il gusto di fare una citazione Questa è un'altra razza di schiavisti che hanno poteri mentali molto sviluppati e tant'è che poi capo del nido si riduce a un unico gigantesco cervello un unico gigantesco cervello che coordina come una mente alveare tutti i Mind Flayer che vivono nel nido che sono costantemente collegati tra di loro ma anche comunque sono esseri individuali hanno obiettivi propri oltre all'obiettivo comune che comunque è quello di mantenere il nido e il cervello principale in salute per cui hanno questi poteri con cui riescono a soggiogare proprio a livello mentale le altre razze e a schiavizzarle per utilizzarle sia come servitù all'interno delle loro dimore sia come divertimento nelle arene sia come badanti per il cervello perché il cervello ha essendo costantemente in attività psichica le chiamano contratture ora il cervello non ha dei muscoli da contrarre però nella fisionomia di questo particolare cervello ha delle contratture per cui sono necessari degli schiavi molto abili con le mani che massaggiandolo continuamente lasciano che si rilassi questo cervello e si mantenga sempre al pieno della sua potenza Davis essendo molto abile molto agile viene appunto scelto per questo compito sebbene se non ricordo male uno dei Mind Flayer che lo cattura aveva più intenzione di utilizzarlo nell'arena perché aveva visto come si era mostro durante il tentativo di cattura e spunta fuori poi sui libri e anche qualche altra peculiarità dei Mind Flayer ad esempio come si nutrono o come si moltiplicano sul come si moltiplicano non mi pare che in questo libro faccia accenna non accenni a questo argomento ma si vede molto bene come si nutrono anche descritto in maniera abbastanza disturbante perché comunque sono creature che si nutrono di cervelli molto semplicemente divorano il cervello delle loro vittime in una maniera abbastanza cruenta perché lo descrive come avvolgere i tentacoli intorno alla testa della propria vittima due tentacoli entrano all'interno tra la bocca o le cavità o comunque dalle cavità che trovano libere entrano all'interno perforando il cervello e succhiandolo come se avessero delle cannucce fondamentalmente nel nido hanno proprio una zona dove tengono gli schiavi addetti a questa a questa fine schiavi o animali il nostro amico Peck verrà utilizzato appunto come pastore e verrà messo in questo recinto nel vuoto è circondato dal vuoto per cui le cose nessuno può scappare e lui sta lì fondamentalmente per scegliere ogni volta uno degli schiavi che sono rintontiti dal costante attacco psichico dei mainflayer e li porta ne porta uno alla volta al loro destino però non disdegnano comunque di nutrirsi di schiavi che ormai non gli servono più perché se uno schiavo per esempio si ferisce in maniera grave piuttosto che curarlo preferiscono utilizzarlo come cibo e sostituirlo con un altro schiavo dunque seguendo poi Drist nel suo viaggio che ovviamente non finisce lì anche perché c'è un libro successivo cosa incontriamo? Drist riesce a fuggire insieme ai suoi due amici dalla caverna dei mainflayer per un atto che non andremo a spoilerare però questo evento mette in subuglio tutto l'alveare lui recupera il controllo di sé e fugge insieme all'ognomo e al pack e insieme a non collaborando comunque insieme a molti altri schiavi che nel trambusto si sono liberati dal controllo mentale e sono fuggiti ritrovandosi poi nell'underdark ad affrontare anche dei dwergar nani grigi che sono appunto un gruppo di nani fuggiti insieme a loro a cui lui un po' ingenuamente pensa di poter chiedere di allearsi essendo tutti quanti reduci da una brutta esperienza con i mainflayer e dove lui scopre che appunto non tutti nell'underdark hanno un animo come possono averlo gli ignomi o come lo ha lui anche se i nani i dwergar sembrano essere creature con cui si può parlare tendono a essere comunque molto territoriali e ostili e attaccano appunto sia dritz che i suoi due compagni facendo una brutta fine perché il pack si è trasformato sotto orrore uncinato lì perde il controllo diventa più orrore uncinato che pack e rischia anche di dover affrontare dritz se non fosse che recupera il controllo all'ultimo momento bene e allora quello che è il centro della trilogia che ruota diciamo attorno a dritz e a questo l'esilio è non tanto la crescita bellica fisica atletica di capacità del personaggio quanto piuttosto la sua crescita morale e sociale si e soprattutto la sua crescita sociale tra l'altro perché la sua crescita morale cioè la sua capacità morale di distinguere che tra il bene e il male è proprio quella che lo spinge ad abbandonare Mezzo Berrazan alla fine del primo libro quindi già dal punto di vista morale lui è abbastanza ben delineato non ha esperienza con altri popoli ma sa diciamo quello che non vuole dal punto di vista bellico lui è fortissimo già a metà del primo libro lui già dimostra di essere estremamente al di sopra della media durante il suo periodo Mezzo Berrazan viene addestrato alla guerra addestrato anche all'utilizzo dei propri poteri magici innati perché gli Elfidro hanno alcuni poteri magici che sono innati di tutta la razza più alcuni che sono della casata per cui lui impara a destreggiare bene anche questi poteri e fanno inizio il libro dell'esilio in cui lui affronta da solo insieme alla pantera un basilisco all'inizio per il lettore che magari non è esperto o conoscitore dei mostri di Dungeons & Dragons può sembrare una cosa quasi banale per come lo affronta perché si spiega tutta la tattica che utilizza però non è che lui abbia tutta questa difficoltà a sconfiggere il mostro quando lui alla fine riesce a essere accettato dai gnomi a Blinston e fa amicizia con i gnomi più giovani lui racconta di come ha ucciso il basilisco e tutti gli gnomi lo stesso compreso lo stesso amico suo che è comunque un gnomo esperto rimangono a bocca aperta perché per loro ha fatto qualche cosa di impossibile cioè a loro serve un'intera squadra di gnomi per affrontare un basilisco e molti non tornano da quella battaglia e lui da solo l'ha affrontato l'ha ucciso senza neanche rimetterci niente quindi lui non è la crescita di potere di Drizzi che noi eseguiamo nella sua storia quanto appunto la sua crescita emotiva in cui impara a fidarsi degli altri impara che ci sono creature di cui può fidarsi e creature di cui non può fidarsi però anche lì lui rimane sempre speranzoso che come lui fondamentalmente nessuno nessun'altra razza avrebbe dato una moneta a un draw pensando che potesse essere buono e lui come lui stesso è diverso dalla norma cerca questa diversità in tutti quanti quindi prova a dare una chance ai nani duergar prova in realtà prova anche a dare una chance a un popolo che incontra se non ricordo male un po' prima dei mind flayer che sono delle creature da come vengono descritte non hanno neanche consapevolezza della propria sicurezza perché pur di uccidere arrivano a sacrificarsi buttandosi tipo kamikaze con delle pietre nell'acido e lui nonostante tutto nonostante la dimostrazione che questi non hanno neanche cura di sé prova comunque a comunicarci perché la sua speranza è sempre quella di trovare qualcuno come lui anche negli altri popoli diciamo che la crescita che fa in questo libro è capire che sì dobbiamo cercare di dare una possibilità a tutti però andare troppo senza protezione diciamo è pericoloso perché tra virgolette pecore nere o in questo caso le pecore bianche sono rare e quindi in un mondo ostile come l'underdark è necessario andarci con i piedi di piombo in qualsiasi situazione fino al momento in cui lui decide che questo non è il mondo che lo che lo rappresenta e quindi è interessante proprio questo lo sviluppo emotivo e sociale del personaggio è quello che veramente invoglia alla lettura della serie per chi quindi volesse esplorare l'underdark i libri sono fantastici perché uno lo fa con gli occhi del protagonista che come dicevamo a parte la sua città natia ne sa ne sa ben poco c'è anche un altro modo però per esplorare l'underdark per chi gioca ovviamente perché dal da questo libro ma insomma da tutta l'opera di salvatore è stata tratta una lunga interessantissima campagna che si chiama fuga dall'abisso che parte particolare situazione in cui i personaggi non per loro volontà si ritrovano tra le mani dei draw e poi devono cercare di sfangarsela in un posto che non è il loro mondo non conoscono non conoscono nessuno un posto sostanzialmente alieno fino a tentare di riguadagnare la superficie spinti però da alcune entità che si stanno risvegliando più di questo non diciamo e ovviamente questa fuga è molto interessante perché porta ad esplorare completamente esattamente lo stesso posto che è narrato da da salvatore nei suoi romanzi e abitato esattamente dalle stesse razze creature entità quindi per chi gioca questa sicuramente è un ottimo modo e un'ottima occasione per viaggiare nell'underdark e con questo penso che possiamo concludere e vi andiamo alla prossima puntata dalla penna da Arlok bellwar gli aveva dato il permesso di girare per blingston guardò nuovamente il gruppo che si trovava dalla parte opposta della caverna tre di loro erano in piedi perfettamente immobili davanti all'effigie come se fossero stati trasformati in pietra incuriosito dritz oltrepassò la soglia e poi prima di rendersi conto di quello che stava facendo si trovò all'esterno il gioco giunse al termine con l'avvicinarsi del draw dato che gli Svinfreblin erano più interessati all'incontro con l'elfo scuro di cui avevano parlato per tante settimane corsero verso dritz e lo circondarono sussurrando incuriositi dritz sentì i propri muscoli che si tendevano involontariamente gli istinti primordiali del cacciatore che intuivano una vulnerabilità intollerabile dritz lottò duramente per sublimare il proprio alter ego ricordando a se stesso in silenzio ma con fermezza che gli Svinfreblin non erano suoi nemici saluti amico draw di Belward Dissengut uno dei giovani si fece avanti presentandosi sono Seldig allievo apprendista e futuro minatore in una spedizione tra soltanto tre anni da oggi dritz impiegò un lungo attimo per decifrare rapidi schemi del linguaggio dell'ognomo delle profondità tuttavia comprese il significato della futura occupazione di Seldig perché Belward gli aveva detto che i minatori delle spedizioni gli Svinfreblin che uscivano nel buio profondo alla ricerca di minerali preziosi e di gemme erano tra gli ignomi di rango più elevato in tutta la città saluti Seldig rispose infine io sono dritz d'urden non sapendo bene cosa avrebbe dovuto fare a quel punto incrociò le braccia sul petto per gli alfi scuri era un gesto di pace ma non era sicuro che fosse universalmente accettato nel buio profondo gli Svinfreblin si guardarono effettuarono a propa volta il gesto poi sorrisero all'unisono al sospiro di sollievo di dritz tu sei stato nel buio profondo così si dice proseguì Seldig facendo cena a dritz di seguirlo di nuovo nella zona del loro gioco per molti anni convenne seguendo il giovane Svinfreblin Svinfreblin